L'ASL, Dipartimento di Prevenzione, mi ha comunicato di aver riscontrato 5 nuovi casi di positività al Covid-19. Nel contempo sono guariti due concittadini, quindi il totale di positivi attuale sale a 14. Sono le parole del primo cittadino di Agropoli, Adamo Coppola, in una nota stampa. Per quanto riguarda le dosi di vaccino somministrate, continua Coppola, sono 24.990, mentre sono 13.236 le prime dosi, portando la percentuale al 61%. Al momento il centro vaccinale Covid-19 città di Agropoli è in fase di sospensione per le settimane centrali di agosto. Nel frattempo, però, le vaccinazioni non si fermano. È stato infatti programmato, in collaborazione con Regione Campania e ASL Salerno, un Open Day aperto a tutti i residenti della Regione Campania e ai lavoratori fuori regioni per il prossimo 20 agosto, dalle ore 18 alle 2. Ci sarà un camper in piazza Vittorio Veneto, sul quale verranno somministrate prime dosi Pfizer e le seconde dosi a seconda delle necessità.